Fenomenali risultati al botteghino di una compagnia teatrale andriese. Dalla Luna Musical Theater, dopo il successo delle due date andriesi nel 2018, ha portato nei giorni scorsi lo spettacolo Aladdin nei teatri di Corato e San Severo, registrando in entrambe le date il tutto esaurito. Tutti insieme avete fatto il sold out? Abbiamo fatto il sold out, che non è la leva militare, ma abbiamo riempito il teatro, anzi la soddisfazione di aver saputo che c'erano altrettante richieste di posti, per quanti erano i posti del teatro, quindi andiamo oltre i 500 posti. Questo ci fa veramente piacere, ci lascia speranza, la speranza che in un futuro prossimissimo la cultura e il teatro vengano rivalutati e che ci siano più sostegno, che ci siano più denari, perché purtroppo la cultura per fare queste cose servono un sacco di denari. E' un pazzo, chi oggi ancora crede in questo, quindi è un pazzo sano, è Michele Magmo. Un'occasione per tanti artisti pugliesi di ritrovare i palchi della propria regione, specialmente per chi, per seguire la propria vocazione artistica, ha lasciato la sua terra per approdare nel più fertile territorio della capitale. E' stato bello proprio respirare quest'aria prettamente pugliese e venire qui e vedere che c'è anche qui molto amore per questo lavoro e molta costanza. E' stato molto, molto magico, cioè come lo spettacolo che è magico, così siamo stati noi. Con il sostegno del teatro pubblico pugliese, l'amichevole aiuto del direttore di produzione del Festival Castel dei Mondi di Andria, Francesco Fisfole, dell'ex assessore alla cultura del comune di Andria, Luigi del Giudice, Michele Marmo, musicista nonché regista del musical Tratto dalla favola di Aladin, ha guidato al successo una compagnia di professionisti del canto e della recitazione. Sono loro ad aver trascinato, in un mondo di incanto, grandi e piccoli spettatori di due teatri di grande suggestione, il moderno teatro comunale di Corato e quello più tradizionale di San Severo, il Giuseppe Verdi. Ma poi anche il pubblico, il teatro ci ha dato la possibilità di stare nel foyer, quindi incontrare i più piccoli. La cosa, cioè è stato bellissimo vedere prima tutti i bambini, emozionatissimi nell'incontrare i personaggi, è subito quasi timidi però, anche i genitori si sono, e quindi tanti complimenti. Molti mi hanno chiesto quando si replica, alcuni bambini hanno chiesto ai genitori, mamma voglio rivedere lo spettacolo. Ieri una mamma mi ha mandato un messaggio, mi ha detto, dice però, mia figlia ha detto, mamma è molto più bello andare a teatro che a cinema, cioè ha preferito vedere il musical anziché il cartone di Aladin. Tanto per rendere le cose un po' più complesse, le due date si sono tenute in giorni consecutivi, mettendo a dura prova soprattutto il lavoro dei tecnici. Forse anche per questo il successo riscontrato ha reso più appagante il lavoro profuso. Antonio, Antonella, Arcangelo sono tre protagonisti, ma oltre Asia, Marcassa, diciamo che nel ruolo di Jasmine, tante altre, Angelo Gaglione, il genio, e tutti, Giaffar, Francesco D'Alonso, la scimietta, Michela è stata una cosa strepitosa. Ovviamente quando tu metti una macchina del genere in moto hai bisogno degli artisti, ma delle persone che poi alla fine fanno lo spettacolo, perché insieme a noi tutti i tecnici come Michele Mastrorillo, Daniele Napolitano, Moschetta, Antonio Moschetta, il Service, e tutti i ragazzi fanno parte a proprio Beppe Perri che ha fatto con me le scenografie digitali. Lo spettacolo è fatto, cioè quando si parla di compagnia, la compagnia è una, è tutto e anche quello che ti toglie le scatole da mezzo, cioè chi le rompe le scatole però, tutti hanno un ruolo importante. Grazie Grazie.